In una serata così non allegra. Ecco questo è il terzo gol. C'è assolutamente una cosa straordinaria a livello tecnico e siamo contenti di vederla perché quando si fanno questi gol bisogna alzarsi in piedi ed applaudire sia i tifosi contro e a favore che quelli contro. Ti fermo perché abbiamo con Carlo Paris Carlo Ancelotti.